Ehi tu che stai guardando il video ascolta attettamente questa parte All'interno di questo video sono presenti alcune imprecazioni Pertanto a chi desse fastidio questa cosa può anche non guardare il video Per chi invece è arrivato fino qua gli auguro una buona visione Sempre no, ma siamo gli unici a giocare su questo gioco No stavano giocando altri E vabbè io faccio questa che è easy Ah 5 parole, facile E' già vinta, faccio così E poi faccio Ancora prima Godo, si Vaffanculo Cos'è quella roba sembra E' bellissima, è un 4 rovesciato Quella si vetrota Oh i Sì certo Ma toccherà mai a me disegnare in questo gioco Bucker, ascolta, guarda Pablo Picasso Usiamo anche i colori diversi perché noi siamo Allora palla Un attimo Porco Ah E tipo Fa queste cose Sì cazzo Cosa che non torna Continua a cancellare Non capisco niente Lo so lo so No cos'è Aspettate Sì cazzo Che cazzo è Si vola Che cos'è questa Dai Ma non ci credo Qua ti faccio pure il Ma andate a cagare Tutti qua Vabbè ma io mi impegno Facci dettagli Questa è easy Preparatevi C'è scritto Knorr Ah Ah Sì Dai era plurale Vaffanculo Ti ho detto Ti ho detto Per due Scusa Ti ho detto Non sarò bravo con le parole Ma sono bravo Cos'era Era la cazzo di acqua Lì ti disegna veloce Fa È sempre un quadrato C'è sempre un rettangolo Partiamo Cosa cazzo è Ti giuro che se c'hai buchi Pure questo No Come faccio Vabbè Questo è un quadrato Va bene Lasciate perdere Questa cosa Che schifo Ancora I buchi Aspetta Oggi va morto Ma dai Oddio Aspetta Ci provo Vai a cagare Vai Ma io come dovrei fare Questa roba Aspetta Cazzo Allora Questa È un muso Di una tigre Cioè la bocca Non sto vedendo Un cazzo Sì Ma Sì L'hai dominato Zanna Allora uno Cerca una parola Zanna Bella tigre Bella tigre E vince Vince Non è vero Non è vero Siamo tutti lì Terzo round Inizia Ma sono me E niente Ma come cazzo faccio Ma me lo spieghi Ma cos'è Eh Tagliare Ma cos'è sta roba Usa No Ricominciamo da capo Allora Ma Una casa Adesso è una casa Due case Eh No 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 Cambia colore di nuovo Attenzione Una casa Come hai fatto Ho pensato Ma io non ho parole Ma io veramente non ho parole Oddio Allora Qua c'è un omino Beh quello è un omino chiaramente Ok Adesso lo vedo Questa è una testa Questa è una cosa La fionda cosa fa Eh Eh che Questo è un sasso Quindi cos'è questo È un È un Non capisco Ma cos'è Ma cos'è Ma cos'è Porca Madonna Lo sapevo Che veniva la censura No raga Non capisco Io non capisco Mi giuro non riesco a capire E niente Ma tu Ho perso Porca puttana È possibile Cioè Pat E quindi Fede vince E la c'è Prima partita Ma perché un round in meno io Ma perché 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 sei uscita Ne facciamo Ne facciamo un'altra Sì ne facciamo un'altra Ci sta Vuole la vendetta Lui vuole Camion Allora Vediamo un po' Facciamo una cosa fatta bene La martita che lagga Ovviamente E camion A sei lettere Lesbo Non so Aspiro a cosa Scrivo a cosa a caso Eh vabbè Ma te lo fai rosso Matt Cioè Se ne hai mai visto uno rosso Scusa Eh su minecraft Sì Eh vabbè Maiowar Letta ho scritto Va bene Letta Sono disabile Letta Cos'è Quanti problemi Lui parte con i rettangoli Non capisco Aspettate No 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 Dai ma perché Io cos'è Io ci provo Allora sì Flame la indovina Io tiro un porcone Ragazzi Vi faccio Cenzionare tutto il video Ma cos'è quella roba Cioè ci ho fatto vedere 40 minuti Vedi E lo fa per non farci vincere No È un sasso Sì Ci somiglia però Io voglio vedere Cos'è questa roba No raga voglio capire Cos'è perché Non lo so No non così Ma io veramente Io non ho parole Io veramente Ma voi siete voi in ritardo Ah No No ho sbagliato Ho sbagliato No Ah No Per due Ok No dai Ma porca Eh beh È finito? Ma vaffanculo dai Ho scritto l'altro No Cosa? Ma? Raga È il suono Non è la parte visiva Forza Ma la va a fare Andiamo a cagare Tutti quanti Va bene Cioè io Uno era Uno era Colpa L'altro era Tamagotchi Allora Allora Questa È una pianta Mi sa che il più facile Era proprio Tamagotchi No Non ti preoccupare Allora Faccio quella di Super Mario Che non ci ho sbatto Ma La scritta Mam Sì Mal Maschile Esatto Ma No Voi due insieme Non arrivate nei punti Siete due cretini Fare in culo Vai E vince La seconda partita Volete la riperdita? No Vaffanculo Raga io Abbiamo perso Raga Faccio un pica Caccio No Non trasformazione Dai Cazzo Ci siete Ma io Trasfor Trasfor Aspetta Vai Facciamo una parola Composta Sì Cosa Sì Vai Allora Promontorio Eticità Promontorio Capolavoro Bene Bellissimo Bello Questo sta camminando Ok Arriva qua E Ma non Ma non riesco mai a disegnare Non faccio cose trovate E le altre erano delle cose improponibili Adesso ci sarà quello che disegna Una scatola Un formaggio Guardalo Guardalo Rettangolare Non ci credo Aspetta No Non ci posso credere Arrivederci Dai Aspetta un secondo Quella lì è la mano che saluta Sì Io pensavo fosse un sasso Una palla Dai Ma perché Io non ci credo Fai una palla al posto delle mani Io ho qualche problema Ce l'ho C'è un telefono Che noi si sta solo parlando Ma cos'è Eh ok Questa è la pasta Ok Fino alla pasta ci sono E lui Pasta Questo è un mattarello Chi è lei Pastiera Dai Inizia con la N Finisce con la Non ci credo Sì 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 5-3 punti La nonna La nonna Spiegami perché Hai capelli blu Io adesso lo voglio sapere Non lo so Io ti giuro La spada che gli hai disegnato Sembrava quella di Thanos Per dire Sì Quale la spada di Thanos Monete Ok Sono monete Lingotto Ok Il materiale Uno è giallo E l'altro è Questo Cos'è questo materiale Sei C'è l'ultimo round C'è l'ultimo round Sicuro C'è l'ultimo round Ti prego Chi deve disegnare No porca Che palle Direi che dopo tre Dopo tre round Basta Basta Escolta Direi che possiamo Concludere qui Noi ci ripetiamo A un prossimo video 겠어 Basta Videoi Chi cuccioro Grazie a tutti.